Carissimi amici buonasera facciamoci anche stasera quattro chiacchiere ovviamente c'è sempre da riferire che l'andamento è sempre leggermente in discesa quindi leggermente favorevole ma ovviamente questo non sposta di una virgola il nostro ragionamento i tempi sono quelli dettati dai virologi i tempi sono lunghi e saranno saranno lunghi perché questa data del 14 aprile si sforcerà mi sembra fino al 28 poi dicono fino al 2 maggio e speriamo che sia così certo è singolare riflettere come ormai diciamo c'è una sensazione che questo pericolo sia come dire più pensato che reale perché ho letto che i pronti soccorsi ad esempio degli ospedali tante volte abbiamo visto anche la striscia delle notizie eccetera invarsi con con persone che stavano sulle barelle nei morti due eccetera magicamente non si sa nei pronti soccorsi non c'è quasi più nessuno a napoli c'è il 60 per cento in meno di accesso al pronto soccorso 60 per cento in meno e altrove intorno al 50 per cento in meno di di pronto soccorso come se magicamente le persone non avessero più altri tipi di patologie come se non avessero più bisogno degli ospedali è come se ci fosse come dire una malattia unica la malattia unica del virus però qualcosa si sta muovendo anche a livello di indagini specie nella lombardia dove c'è oltre 50 per cento delle infezioni e dei morti e le indagini vertono finalmente sia sul fatto delle casi di cura che abbiamo già detto ieri dove inoppinatamente mettevano a centinaia i positivi nelle casi di cura dove stavano dove stanno e stavano migliaia di di anziani con patologie facendo esplodere una una bomba una bomba sanitaria ma poi c'è anche da dire che i primi tempi non è che questi anziani pure con patologia accedessero diciamo a questi ospedali con le castelle cliniche alla mano a dire questo farmaco lo posso prendere io sono allergico a questo sono allergico a quest'altra cosa perché veramente degli anziani sapete che sono molto delicati e quindi invece no chissà subito quali cocktail di farmaci pesanti che si danno normalmente per la terapia di questo virus che di per sé questi cocktail di farmaci li avranno uccisi perché perché non è che ognuno dato che c'è la sua storia clinica non è che si sono messi a vedere la storia clinica di ciascuno e quindi hanno fatto anche in questo caso un rimedio maggiore del male peggiore del male questo molte volte non si saprà non si potrà nemmeno accertare perché le salme sono state cremate quindi questo passerà in silenzio veramente è qualcosa che vuoi col tempo che sta a galla ma c'è anche da preoccuparsi questo fatto di posticipare sempre di più qualsiasi tipo di ripresa nonostante nonostante le accortenze che si possono usare ma l'aumento anche delle malattie sociali delle malattie questo è un esperimento sociale mai tentato prima nella storia dell'umanità cioè l'Italia ha messa tutta tutta in lockdown come topi in gabbia e un aumento di suicidi leggo un aumento di suicidi grandissimo che è il grande giornale unico dell'informazione non si porta evidentemente come pure questi prestiti diciamo fatti dallo Stato questi fondi che si parla tanto si sbandiera 400 milioni eccetera eccetera poi alla fine mi sembra tutto una come dire un qualcosa che è legato alla follia perché vedete mentre diciamo pure la cassa integrazione e altri aiuti che si danno ai lavoratori sono dati e basta non è che uno prende la cassa integrazione e poi la deve restituire questo no e è la stessa cosa una piccola azienda che adesso sta senza lavoro senza niente va in banca si fa prestare 50.000 100.000 euro però poi li deve restituire con poco interesse ma cosa restituisci? cioè lo Stato non aiuta se poi tu li devi restituire questi soldi dovrebbe essere a fondo perduto questi sono i veri aiuti non che lo Stato specula sulle povere partite IVA su questa gente che va a fare un prestito alle banche ma poi come lo paga? se poi non lavorerà anche dopo la vettura non lavorerà certamente non più come prima come farà ad andare avanti e a restituire pure i prestiti? qui sembra una follia una cosa proprio incredibile come pure ripeto bisognerebbe rilanciare il turismo in Italia specie nel centro sud dove il virus grazie a Dio è poco pochissimo diffuso e dobbiamo vedere di mettere in sicurezza tutti questi alberghi queste strutture e avviarli in qualche modo magari ho sentito dire di fare questi T-bond queste iniziative per il turismo tipo come si faceva per la rottomazione delle macchine ricordate che i produttori delle macchine facevano dei grossi sconti più lo Stato dava delle agevolazioni e uno si cambiava la macchina per poco quindi anche adesso ipotizzando dal primo giugno diciamo una riapertura della stagione turistica locale si potrebbe fare pure in modo che i proprietari di queste strutture fanno 20-30% di sconto sul pacchetto turistico e altri soldi li dia il governo in modo che anche la povera gente che molti hanno depauperato insomma gran parte dei propri risparmi possa come dire concedersi una settimana del risparmio a pochi soldi ma è anche per attivare un circuito un turismo che necessariamente quest'anno deve essere di tipo nazionale e non si può pensare che vengano gli inglesi americani o i cinesi o i giapponesi certamente deve essere un turismo italiano poi altra cosa che lascia il punto interrogativo è quello che fine hanno fatto? mi chiedo tutti questi isegolari, questi immigrati io andavo a Napoli e ne vedevo a centinaia, a centinaia in mezzo alla strada sai che vendevano queste champrusaglie per non dire altro spacciavano eccetera quindi in ogni grande città città anche le piccole ce ne stavano migliaia che fine hanno fatto questi qua? si dice state a casa, state a casa ma che fine hanno fatto questi isegolari, questi immigrati? io vorrei sapere dove stanno e cosa fanno ho letto pure di qualche multa fatta senza detto pure di qualche immigrato che giustamente la strappa perché che cosa vai a togliere? cosa vai a dire a questa gente qua? diciamo che è un qualcosa di folle quello che sta accadendo perché sono i cosiddetti virologi e non tutti alcuni che dettono l'agenda al governo e il governo ovviamente non va al di là di quello che dice il virologo quindi diciamo si è passato come dire dall'homo sapiens all'homo virologus virologus come si dice virologis quindi l'homo virologis è l'homo che governa questa società una politica diciamo asservita al cento per cento perché cosa si aspetta? io dico è vero con tutte le cautele ma bisognerebbe fare un tavolo di concestazione con la confindustria con i sindacati e partire di partire con tutti i necessari accorgimenti magari partendo dalle regioni come la Sardegna la Calabria la Lucania anche la Campania con tutte le precauzioni non si può avere paura se si usano le precauzioni perché altrimenti aspettiamo a maggio ma perché non aspettate pure a giugno oppure aspettiamo a luglio qualcosa si deve fare se noi aspettiamo che alcuni virologi dicano ok si aprite certamente non lo diranno mai per il famoso gioco il famoso rimparlo delle responsabilità quindi assistiamo prendiamo atto di queste miracolose guarigioni diciamo avvenute in Italia per tutte le altre patologie quindi si muore pochissimo adesso per ictus grazie a dire è una sorta di miracolo perché ictus diabete vari tipi di tumore come le ocemie eccetera sono praticamente quasi scomparse quindi diminuite di oltre il 60% perché sono convogliate adesso tutte nel nel coronavirus questo è qualcosa da approfondire ma purtroppo non si dice per cui l'informazione è unica questa non la dice ma se si sta muovendo la magistratura qualcosa significa a esempio vedete e concludo l'avvocato Taormina che è ben conosciuto alle cronache ex parlamentare che ha denunciato insieme ad altri avvocati tutta la classe politica e governante per quelle che hanno fatto che in Lombardia specie con le case di riposo eccetera certo è un qualcosa di notevole ma non ne viene dato atto sulla sugli organi di informazione principali tantomeno in tv non viene certamente chiamato per un ospitato o un'intervista non viene chiamato questo veramente mi sa che non è una grande dimostrazione di democrazia e bisognerebbe dare spazio anche alle voci che sono minoritarie comunque il tempo è galantumo speriamo che l'Italia abbia tempo per i partiti io credo che se andiamo a maggio ogni giorno che passa è tesibile tesibile bisogna riaprire speriamo che i governanti man mano rimettono in moto questo paese aggiornamento a domani grazie a tutti ciao ciao ciao